Il primo gol arriva al quarantesimo dopo che Anastasi ha colpito un palo. Sul corner di Causio, a mezz'altezza, scatta giusto Furino e infila di testa. Seconda rete, manovra Bettega-Gori-Bettega, poi la palla è sul piede di Anastasi che si gira rapidissimo e batte Filipov. Poco dopo uno scatto di Damiani che c'entra corto. Bettega tenta la spaccata ma Stankov libera. Grazie per la visione!